ok possiamo andare io ho tutto perfetto scendiamo direttamente dal buco qui ma qua c'è anche il trampolino per fare il salto eh chi me chi dall'ascensore oh ragazzi andiamo fino a casa loro e gli usciamo dal buco di sotto casa facciamo le talpe aspetta che c'è copper qua a chi mi è andato qua a prendere tutto quello che c'è ma dove sei ok ti vedo io non ti vedo dove siete il caverna ok ecco qua ma non fa un culo grazie ma io vado da questa parte si si infatti torno indietro e copper eh ma è l'ultimo a prendere questo una base è un casino sotto se riusciamo a trovare la strada giusta non sai che facciamo un buco verso giù no no ma c'è proprio la strada non mi ricordo sa chi in boccia aspetta no? tu venivi con me invece di tornare indietro ferro ok io l'ho trovata invece io sono giù ok io mi sono sfracellato però ce l'ho fatta oh così blu qua c'eri tutto vai ah qui c'è il dungeon no da queste parti comunque eh vieni lù 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 aspetta aspetta io non c'ho le torce bello vai in caverna senza torce bravo vabbè tanto ce l'avete voi dai e se io non ce li ho? si che ce li hai dai vieni qui vieni vieni qui dove dove quello che c'è di più ragazzi è la redstone comunque ah lì c'è la lava e qua c'è un buco enorme eh lo dobbiamo scendere dove eravamo giù 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 eh noi abbiamo trovato un altro buco adesso chiuso ma l'abbiamo trovato ah la flint mi serve già che siamo qua è vero? per fare maceratori ce l'abbiamo già la flint? no ce n'è pochissima abbiamo 15 flint ah che le fottute? non lo so non erano nostre no oh porca troia no non mi togli le torce Nabbo capito che non ne hai oh non voglio stare al buio con te mi fai paura oh carbone è sempre utile nabba no guarda che cosa ho trovato diamante non dirlo no nicolite nicolite ma c'è un passaggio segreto bella vieni qua quello che ho aperto io aspetta che prendo gli ultimi così qui che però è chiuso bene bella merda sento lava e zombie niente chiuso chiuso io sento rumori di dungeon qua c'è del carbone beh il carbone ci serve per cui lo chiappo però dovremmo trovare un mago eh per forza io mi sto spaccando il piccone verde cavolo no a parte quello è per lo zainetto eh poi un sacco di cose ah una cosa ragazzi una cosa avete presente lo zaffiro quelle cose rosse, gialli, verdi eh eh a noi non servono tanto oltre al piccone potremmo venderle cioè potremmo darle in cambio al mago per farci fare delle cose perchè loro le mettono nella tasmutation table e le bruciano ci siete? ehm è vero le possiamo dare in cambio a loro anche l'uranio per dire no l'uranio mi serve a me stai scherzando? per la centrale nucleare per la centrale nucleare eh ma più avanti eh beh però non è che ce n'è tanto nel mondo vabbè che me la malattia ma non ho fatto dove siete? dove siete? noi siamo qua allora ci fate di fianco a me però dritti eh guarda guarda mi vedo voi ma che cavolo è? cosa c'ho sopra? olè ah già c'è un cecchino tanto c'era un cecchino oh no sono caduto giù aiuto sento voci senti voci? sì sì non ho zombie dove cazzo sei? ma non lo so ma qua è infinita sta caverna bah io tornerò a casa ragazzi c'ho paura ah già che è stato? dietro dietro no dietro dietro che è una barba oh dal buco guarda 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 qui oh delle scale vai 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 redstone c'è tutto là sotto bella manu vieni con noi dove siete? abbiamo trovato un passaggio segreto qua sono morto sono morto sono morto ci dico lo scherzo per favore se in becca sono morto dove siete? vieni vieni eh manu dove sei tu? ah ti vedo ti vedo vieni avanti eh ragazzi eh vieni manu vieni manu vieni manu vieni manu vieni manu tanto prendo quel ferro lì prendo quel ferro là guardate quello zombie incastrato ragazzi l'avete visto? l'apiscazzo lì eh dove eravamo noi? te lo ricordi? no non posso morire eh no ma non c'è diamante le ho messe è vero non siamo andati qua noi eh dove diamante? preso preso quanto? eh quattro pezzi buono bella bella andrei da d'archima a farlo rosicare adesso eh redstone eh lava prendi tutta la redstone questo zombie guardate questo zombie incastrato ragazzi cosa? ci siamo dimenticati il secchio d'acqua ce l'ho io ce l'ho io ah bella vieni qua che c'è lava oh creeper c'è di tutto qua sotto ragazzi aiuto beh si aiuto oh rubino rollo aiuto ragazzi dove sei? eh mi sta ammazzando dove cazzo sei? no ma ho droppato un arco che cazzo te lo sei fatto affare prima? ragazzi è il centro del vulcano è vero ecco perché c'erano tutti questi materiali ma non vieni a vedere ah al centro del vulcano no ma scende ancora scende ancora ma non ci credo ehm la pelle no c'è il diamante di là no c'è il diamante però c'è il diamante ragazzi occhio a non spingerci nella lava per fuori eh la nicolite eh redstone no lava porca no no quazzo madonna con mezzo cuore con mezzo cuore con mezzo cuore basta ragazzi no 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 con mezzo cuore no 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 cazzarola cazzarola cosa stavo facendo eh oro ora ragazzi oro guarda dove sono caduto io ma che cazzo è qua oh il canyon oh c'è ossidiana ragazzi c'è ossidiana c'è ossidiana vado a prendere l'oro manu lo prendo io lo togli no ma queste non dirmi che eh ragazzi tu che cazzo è l'oro tu che cazzo è l'oro tu che cazzo è l'oro eccolo qua e lui sta scavando scusami ah che bello oro affanculo ah è lasciato tutto di me chi prende tu che cazzo è l'oro vale due diamanti giusto si ma chi prende l'ossidiana prendo io mi chi ragazzi ma quanta roba anche di là ma avete mai visto un canyon all'altezza 12 no sincero no oh il tungsten ore eh quello si vende i maghi eh lapiscazzoli oh due pezzi raga io uno e sono tre e sarebbero quanto diamanti qua è finito oro oro pezzi lapiscazzoli ragazzi bella e lapiscazzoli secondo ho trovato io ne ho esattamente 20 oro oro redstone yeah ma sei zitto tu cosi blu voilà poi 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 mattone pericoloso sto posto red sono visto ma di qua c'è un'altra stanza oh mica c'è la lava sotto l'ossidiana meglio che non la scavo qua c'è l'ossidiana qua c'è l'ossidiana con un sacco di roba dove? eh dove sono mi eh quanto è roba che sei tu dall'altra parte? io vado più attraverso i muri eh lui? eh? è dall'altra parte? no sono qua ho trovato un sacco di roba ma sei sopra o sotto? sotto ah lo vedo vieni vieni Manu non è di qua? girati ho trovato una stanzina ragazzi io c'è l'acqua se volete venire a fare l'ossidiana ve la faccio vieni Manu andiamo da Lu vedete che forse ho trovato anche qualcosa poi non c'è niente dai ragazzi prendiamo l'ossidiana andiamo su poi ce la poi ce la andiamo nel nether che ne dicete eh sì però sì che a noi servono i cosi per fare le lamp ma Glouston Uranio c'è la rola quanta redstone che c'è qua siamo sotto il vulcano ok l'ossidiana è qua Manu si vieni arrivo arrivo tungstone vedete perché ho trovato un bel po' di redstone oh beh è veramente infinita sta caverna oh quanta redstone quanta roba ragazzi dove ti giri ti giri c'è roba hey tu Stan bella e siamo a giro altra cosa sì ma non vorrei che sotto l'ossidiana Lu eh aspetta no no ti vengo a mettere il secchio d'acqua Manu ah ok vieni dove sono io mi vedi Manu ti venga a prendere sei che raccolgo sta roba ma dono so per morire buono buono dove sei ok vieni qua Manu attra attenzione quando è un casino copriamo sta lava va non dovrebbe esserci la lava sotto eh eh ma c'è no ma dove scavo scavo c'è roba ma guardate qua ma l'uscita sale male in su dove scavo scavo c'è roba e che cazzo fai ma Nabba no come salire bastardico dai Nabba veramente perdiamo tempo andiamo a fare su portale dai 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 Kimbo vieni qua a prendere la lava arrivo e la cosa vediamo se sotto c'è l'acqua no non c'è non ce n'è sotto se la Kimbo si muove sto arrivando sto arrivando eh ma ti muovi dalla stanza come uscite fuori ah siete qua ok qua è finito giusto si eh Kimbo qui qui viene ahia qua Manu beh quando si può passare però è finito qua quanti pezzi servono i eh dieci scusa non sono tre, sei, otto, nove dieci da qui risaliamo quanti ne hai? tre questo questo Grazie a tutti.